Ciao! Benvenuto nel canale di AgriEuro, in questo video ti presenteremo le caratteristiche principali del prodotto. Ma prima di iniziare, voglio ricordarti che AgriEuro è l'unico e-commerce che permette una fornitura completa di pezzi di ricambio per tutta la vita del tuo prodotto, in caso di necessità, per riparazioni o assistenza, offriamo un supporto completo, grazie a una maxiofficina interna, o attraverso uno dei 400 centri assistenza partner, sparsi in Europa. Ma ora, vediamo le caratteristiche principali del nostro prodotto. La pompa irroratrice a spalla a batteria Stoker Ergomist è progettata per trattamenti efficienti e senza sforzo. Uno degli elementi distintivi di questo prodotto è il suo zaino ergonomico, studiato per una distribuzione ottimale del carico, riducendo significativamente la fatica durante l'uso prolungato. La pompa offre una pressione di nebulizzazione regolabile su due livelli. Questa caratteristica consente di adattare la pressione alle specifiche esigenze del trattamento. La pompa Stoker Ergomist è sia leggera che capiente, rendendola ideale per sessioni di lavoro prolungate. Visita il sito AgriEuro, e scopri le offerte nel nostro store online. Clicca sul link in descrizione per saperne di più.